E salve a tutti amici, Kuperian e bentornati in questo nuovissimo video Oggi è un video un po' diverso dal solito perchè non è il classico live gameplay Ma è un coso, sto facendo un commentary perchè ho fatto praticamente il pomeriggio Insomma questa partita è stata registrata la sera e il pomeriggio di quel giorno che era martedì Ho fatto 10 factory prima, doveva diventare un video ma avevo morto amaramente, mi incazzavo cose Quindi ho detto sai che c'è, preferisco registrare qualche partita fatta in compagnia e via Visto che dovevo fare una missione di uccidere 14 scave e 12 pmc Allora ho detto dai sai che c'è andiamo su woods Ora qua mi vedete un attimo fermo perchè avevo detto di aspettare un secondo che si risistemasse un po' il desync Insomma che andasse tutto bene Poi ci siamo messi in viaggio e qui è stato bellissimo perchè questo ragazzo era con me e mi ha detto Oh qui c'è una macchina, di solito c'è uno scave Ho fatto ma io non ce l'ho mai trovato, infatti siamo arrivati e ci ho trovato questo scave E quindi insomma è stata, insomma meno male che l'ha detta e quindi sono stato un po' più attento E comunque vi volevo ringraziare perchè siamo arrivati a 300 iscritti nel giro di poco Perchè nel video, quando feci il video mega ritorno su escape era 175 e da lì insomma abbiamo Siamo saliti ma per secondo me e sicuramente per il video di fraus di parliamo di videogiochi Che ha fatto un video che parlava di escape from tarkov E quindi insomma molta gente dopo quel video voleva cercare qualcuno che lo portasse in Italia E insomma trovano me perchè alla fine sono l'unico su youtube che lo porta fisso Soprattutto adesso che i server vanno bene perchè continuo a giocare E dopo che hanno aggiunto altri server vado benissimo Tipo su una giornata intera di gioco che è stata quella di martedì Ho avuto solo tre volte problemi di, proprio problemi che mi stava ciucciando un sacco di connessione fissa E quindi poi mi crashava internet Però solo tre partite su tutto il pomeriggio E invece il resto andavo bene perchè di solito no Nel video quello che vi faccio vedere che è proprio mega ritorno su escape Faccio vedere quanto, quanta banda mi utilizza Mi utilizzava 0.89 prima 0.90 adesso di solito mi utilizza 0.10, 0.20 Infatti vado da dio Ora qui in questo punto stavamo seguendo gli spari E qui avevo visto uno correre verso quella zona dove sto mirando E infatti poi vediamo quello là che non si sa se era un giocatore O uno scav Però può essere che fosse un giocatore per la roba che aveva dopo insomma No non lo so Perchè finita questa partita l'ho finita che avevo ucciso Ehm... tre scav O due scav e un player Non ho... non me lo ricordo Forse due scav e un player E... insomma avete visto dal titolo Il titolo si chiama super loot in gruppo Se non mi sbaglio Credo di sì E... qui insomma c'è stato un momento in cui ho detto Aspettiamo Magari c'è il suo compagno Controlliamo un po' in giro Vediamo se non c'è nessuno Io guardo Dico Non c'è nessuno Allora vado un secondo Mi butto E vediamo se trovo qualcun altro Ed è stato bellissimo Perchè mi giro E... Io adoro l'SKS Perchè quello non mi ha mai colpito Ma poi è arrivato il suo compagno E mi ha iniziato a sparare Io qua non riuscivo a buttarmi a terra E sopra c'era il mio compagno Che mi diceva Cosa che sta succedendo Però il problema ogni tanto Non mi prende il microfono su Discord Che uso il telefono Perchè... Ogni tanto quando mi ciuccia troppa connessione Mi disconnette da Discord Quindi sto col telefono Che sto più sicuro Quindi non mi aveva preso Ho detto infatti c'era uno E dopo si lamentava un po' Dicendo Eh... devi dirlo Eh... ma io l'ho detto Non l'ha preso Però... Qui è stata una bella giocata Perchè ho ucciso quello Sono riuscito a mettermi in tempo dietro Questo... Quella catasta di legna E lui ha ucciso l'altro compagno Quindi per ora siamo a tre uccisioni Praticamente E io vado subito da questo Che ho visto c'aveva il Pilgrim Allora mi ci fiondo subito E ho trovato un PP19 Che persi il pomeriggio Nella prima partita del pomeriggio E... il Pilgrim Credo sia il secondo Pilgrim che ho E... Poi quando ho visto c'aveva quello zainetto Ho detto che cazzo ci fa Quello zainetto lì E' inutile quello zainetto Ci metto le armi che è meglio Infatti ho switchato Ho messo tutto com'è adesso Insomma... E... Credo... La partita con più profitto Di tutte le partite che abbia fatto per ora Manca solo di uccidere magari qualcuno Con l'M4 E poi c'ho un'altra clip Dove eravamo di nuovo su Wuz Perché dovevamo completare le... Le missioni Quelle dei 14 scave Eccetera Allora arriviamo proprio in un punto di merda In un punto che si odia io e lui E allora diciamo Dai corriamo Che se ne frega C'era... Era il momento del desync Allora arriviamo entrambi Davanti a due Con l'M4 E gli sparo subito Ma purtroppo col desync Non gli uccido E... Quindi niente Poi ci hanno fatto fuori E ci ha rosicato un po' Perché insomma Abbiamo perso qualche AK Però fortunatamente Avevo già tolto il... Il PSO Dalla AK Quindi almeno il mirino Non l'ho perso Comunque vi ricordavate Nei vecchi video Come andava male Quando spostavo le cose Cioè avete visto che bellezza Adesso spostare E' proprio qualcosa di fantastico Comunque Beh qui abbiamo luttato questi due Mi faceva comodo Magari Quella cosa silenziata Che avevo sentito Forse quella AK Che aveva dietro Lui Non lo so Non ne sono proprio sicuro E ora lui ha detto Dai andiamo Andiamo a luttare il corpo Il primo che avevo ammazzato Quindi ho detto Dai va bene Andiamo E... Mi sono dimenticato una cosa Che sicuramente Ora vi scriverò Che avrò scritto All'inizio Di passare Da un ragazzo Sul suo canale Twitch Che troverete Il link in descrizione Si chiama PugB E' uno streamer italiano Di Escape from Tarkov Che durante una live Sul canale C'è stato un Un iscritto Anubi Mi sembra Se non mi sbaglio Che mi ha proprio parlato Di questo streamer Allora un giorno Ci ho fatto Un giro E insomma Mi piace Come porta Escape Ha avuto la mia stessa idea Ha avuto l'idea Di voler portare Escape in Italia Però lui streammando L'ha voluto fare E lo sto facendo Con i video Lui streammando E quindi Insomma Lo sto supportando Tanto Infatti Mi sono iscritto Al suo canale Twitch E ora Ho in mente Insomma Devo parlare con lui Di una cosa Che potrebbe Fare gola A tutti voi Che non avete Escape E quindi Insomma Passate da lui E Insomma Che dire Passateci Perché comunque Si merita Si merita Le persone Insomma Gli italiani Lo devono seguire Visto che non ce ne sono Tanti di streamer Che lo portano bene Lui lo porta bene Almeno secondo me Quindi Vi consiglio Da andarlo a vedere Se siete arrivati A questi sette minuti Perché vedo Che la media È di cinque minuti e mezzo Visti dei miei video Però Questo è un video Di undici minuti Non è il classico video Di venti minuti Ora qua c'era un attimino Di desync Ma tipo È successo cose strane Che io ho voluto Cato F Ma mi ha ricaricato Infatti avete visto Poi mi ha preso il coso E non capivo Però Beh insomma È andata bene Infatti poi alla fine Avete visto la mano Che l'ha pescato E perché prendo la big battery Perché sono arrivato A proper livello 2 E con tre big battery E altre tre cose Non mi ricordo cosa Danno ISV98 Ne ho già uno Cioè Che mi hanno dato con La Da Edge of the darkness Ma Insomma Se ne prendo uno Da me Allora Magari ci faccio anche un videozzo Magari Forse non Un video da solo Forse sì Non lo so Dipende Perché magari Becco quel server Che c'ha il desync Della madonna E quindi muoio E quindi mi scoccerebbe Ovviamente in Ensure Però Però vabbè Era qui Vogliamo subito Correre all'estrazione Perché Cioè Con tutta questa roba Cosa vuoi fare Eravamo pieni Vuoi luttare ancora E no Che poi questo In questa partita Era andato solo con il Blackrock Se non mi sbaglio Si chiama Blackrock Che è insomma La vest Solo SKS Insomma E' caricatore E basta E vabbè Lo zainetto Per cui ho detto Se trovo qualcosa Infatti Ho buttato Lo zainetto Ho preso Il coso Insomma E' stato E' stato veramente Di profitto Perché un PP19 Un fucile a pompa Un altro SKS Un Pilgrim E' stata proprio Una bella partita Di profitto Davvero Davvero Una bella partita Di profitto Ed è Ve l'ho detto E' proprio La primissima partita Di profitto Che abbia mai fatto Su escape Per adesso Per adesso Perché insomma Durante l'alpha Ne ho fatte molte Di profitto Cioè Andavo Con il fucile a pompa Su factory E mi facevo La gente con il Fort armor L'elmetto E gli AK Che c'era un video Non mi ricordo quale Però era andato Con doppia fucile a pompa Così non lo dovevo Ricaricare Infatti in quel modo Ho fatto fuori uno E Quindi niente Siamo Quasi a fine Manca un minuto Alla fine del video Vi ricordo Di andare Nella pagina facebook Perché lì Insomma Vi mando aggiornamenti Magari delle foto Di gioco Eccetera Insomma Comunque andateci Anche per ulteriori Aggiornamenti Sui video Se esce in ritardo E se non esce Il video E E nulla Vi condivido poi Magari quando sono in live Con Pugby E quindi Andateci 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 Anche sul canale Twitch di Pugby Perché vi ricordo Che ci potrà essere Un qualcosa Per voi Persone che non hanno Escape E Magari per chi non ha Escape A domenica Per Gli iscritti Del canale di Twitch Di Pugby Fa un Fa un giveaway Della versione standard Della versione standard Di escape Però solo per I cosi Per I subscriber Comunque niente ragazzi Siamo giunti alla fine Io vi ringrazio per la visione Spero che questo video vi sia piaciuto Ditemi se magari volete altri video in questo modo A commentare Con partite di profitto Con tanto loot Quindi niente ragazzi Ragazzi Io vi ringrazio per la visione E ci vediamo al prossimo video Che sarà Lunedì Con una Sproppresina Che forse avete già capito E quindi vi saluto E ciao ciao Ciao